e rieccoci nuovamente insieme ospiti di VR Camper io mi trovo a Druento in via volta 29 naturalmente il mio saluto di benvenuto va a lui Fabio Carnino appena tornato dalla fiera di Parma quindi carichissimo ciao Fabio come stai? Ciao Sonia buongiorno a tutti siamo molto molto carichi il rientro da Parma è stato decisamente positivo quindi vi aspettiamo a conoscere qui presso il nostro salone in via volta 29 a Druento le ultime novità 2025 infatti ci sono tante novità ma ci sono anche tante promozioni sui camper che avete qui in pronta consegna sono moltissimi i veicoli in pronta consegna che si differenziano in realtà veramente di pochissimi dettagli rispetto ai modelli 2025 sicuramente il fattore positivo è il fatto di averlo in veramente pochissimo tempo quindi venite a trovarci perché le soluzioni qui nel nostro salone sono veramente tante e tantissime sono anche le promozioni in essere bene allora sai che ti dico andiamo a vedere subitissimo qualcosa e cominciamo da un mezzo compatto piccolino ma molto apprezzabile un semi integrale di casa Carado Carado V337 un semi integrale estremamente compatto di soli 2 metri e 14 di larghezza propone una piantina estremamente comoda al suo interno ovvero due letti gemelli estremamente comodi sul posteriore e un ampio garage sottostante un camper sicuramente adatto per la coppia ma perché no anche per ospitare la terza e la quarta persona qui da VR Camper in pronta consegna sempre metratura contenuta però più comfort e più abitabilità l'iseo di casa Büsner in soli 6 metri e 90 di lunghezza totale questo veicolo di casa Büsner l'iseo 680 propone un interno un layout e una disposizione interna senza precedenti un'abitabilità mai vista prima un face to face che contraddistingue il modello da qualsiasi altra piantina oggi sul mercato offre un'abitabilità interna quasi similare ad un vero e proprio alloggio su ruote un bagno posizionato in coda con un ampio garage sottostante un letto matrimoniale basculante che scende sopra il gruppo sedute offre così alla coppia delle sensazioni uniche cambiamo brand parliamo di like è una bella novità la categoria cosmo però migliorata esisteva già ma ci sono degli accorgimenti che l'hanno notevolmente migliorata riproposto quest'anno 2025 la produzione sicuramente ha migliorato alcuni aspetti rispetto all'anno precedente la sensazione che si percepisce entrando in un cosmo grazie ai suoi colori alla sua armonia di mobilio design e disposizione interna lo rende sicuramente il prodotto di punta sul mercato italiano e parliamo di motorhome di casa Imer quindi qualità allo stato puro un brand che ormai ci caratterizza da oltre 30 anni la Imer propone ormai da diversi anni soluzioni estremamente estremamente importanti che hanno un comune denominatore la qualità composta dalla meccanica Mercedes con cambio automatico 170 cavalli piuttosto che 190 con addirittura la trazione integrale sono motorhome di altissima qualità con un doppio pavimento con una coibentazione decisamente importante che permette di utilizzarli anche con temperature estremamente rigide soluzioni con letti gemelli letti matrimoniali letti basculanti estremamente ampi comodi sia per la coppia che per la famiglia venite a trovarci in via volta 29 per toccarli con mano a scoprirli nei loro dettagli e perché no anche a noleggiarli dato che sono veicoli proposti anche a noleggio non solo motorhome ma vi parlo anche di semi integrali van urban vehicle ne abbiamo veramente per tutti i gusti qui da VR Camper non parliamo solo di vendita di autocaravan ma bensì anche di assistenza un fattore determinante per i nostri compagni di viaggio quindi venite a trovarci e a scoprire da vicino quello che potrà essere il vostro nuovo compagno di viaggio e parliamo di alternativa al nuovo vi ricordo che qui da VR Camper c'è un'ampia scelta di usato per esempio Adria Sonic appena arrivato freschissimo in ottime condizioni peraltro usato per modo di dire vi parlo di un Adria Sonic 700 SL Supreme la versione più prestigiosa di casa Adria veicolo di 7,50 metri di lunghezza che propone due ampi letti gemelli sul posteriore un garage estremamente spazioso per bici e eventualmente anche scooter letto basculante sull'anteriore meccanica Fiat Ducato 180 cavalli con cambio automatico riscaldamento Alde con dei radiatori che emanano calore quindi un comfort e un riscaldamento estremamente importante al suo interno con moltissimi optional già installati pannello solare antenna satellitare condizionatore venite a vederlo pari al nuovo in promozione anche per quanto riguarda l'usato Imer si contraddistingue per la qualità allo stato puro qui da VR Camper il parco dell'usato è decisamente importante vi proponiamo questo bellissimo BMC di casa Imer su meccanica Mercedes 170 cavalli, cambio manuale, tantissimi gli optional installati tra cui piedini idraulici di casa Alco, veranda, antenna satellitare, pannello solare e batteria litio venite a scoprirlo, a toccarlo con mano in promozione qui da VR Camper e questo era soltanto un assaggio vi assicuro che da VR Camper c'è molto di più vendita, usato, noleggio, insomma la vostra casa a quattro ruote è qui in via Volta 29 a Druento detto bene Fabio? Hai detto tutto, perfettamente, vi aspettiamo qui in via Volta 29 a scoprire da vicino tutte le novità e le promozioni che abbiamo in questo periodo quindi non vi resta che venire a trovarci bene, sono sicura che Fabio Carnino e il suo team non vi deluderà alla prossima Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.